E adesso ci occupiamo di Margherita Hack, madrina di un'iniziativa per salvare la vita ai ciclisti nelle grandi città. Matteo Parlato. Margherita Hack è venuta qui a Milano a presentare il suo ultimo libro sulla sua vita in bicicletta e l'occasione è stata uno spunto per rilanciare la legge per tutelare, per proteggere la vita dei ciclisti urbani. Qual è il più grande pericolo per il ciclista in città? Ma sono gli scooter e gli automobilisti maleduati. Secondo lei se si migliora la vita dei ciclisti migliora anche la qualità della vita della città? Certo perché ci sarebbe molto meno inquinamento e sarebbe molto più sano anche per la gente di muoversi in bicicletta piuttosto che il motorino o in macchina. Salva ai ciclisti è un'iniziativa che è nata come si usa a dire dal basso per sostenere e favorire una serie di norme che permettano di tutelare i ciclisti che viaggiano in bicicletta nelle città. L'iniziativa si basa ed è nata sull'onda di quella che è di fatto un'emergenza perché i numeri dei ciclisti assassinati sulle strade italiane sono impressionanti. Si parla di migliaia nel corso degli ultimi dieci anni, nell'ordine delle centinaia l'anno scorso e solo per fare un esempio in una città come Milano negli ultimi tre mesi sono morti per strada quattro ciclisti. Grazie a tutti.